È stata una bellissima conversazione, ognuno ha espresso con molta libertà, anche con allegria e simpatia, ma anche con profondità, il proprio pensiero, ovviamente giovanile. Mi è piaciuto molto perché mi avvicina molto a capire come si sta evolvendo la nostra società e particolarmente i nostri giovani che in gran parte frequentano le nostre parrocchie, i nostri gruppi, cosa importano dalla cultura contemporanea, in che modo tentano di filtrarlo alla luce del Vangelo, nella vita comunitaria della fede. Insomma è emerso un complesso di prospettive poliedrico non semplice nel quale piano piano bisognerà fare ordine, ma crescendo insieme a loro e dialogando, e forse anche ponendo loro qualche domanda che li faccia sempre di più interrogare, perché questo è tipico della loro età.